4 World Cup 2016, gli europei di calcio 8 si giocano a Roma, scegli la maglia della tua nazionale e vinci 10 weekend in una capitale europea. Sicuramente sì, era una partita cruciale, abbiamo sbagliato perché sono stati più bravi loro al momento cruciale delle partite, noi abbiamo provato, ci ha detto anche male su certi episodi, però ti ripeto, manca poco e sicuramente questa sconfitta ci fa allontanare quasi sicuramente dai play-off. Sono dispiaciuto perché poi chi c'è, anche se siamo contati, sta sempre tutto in campo, quindi io non posso dir nulla a nessuno, ma assumo responsabilità perché comunque sono io allenatore. Ci proviamo fino alla fine, perché tanto mancano ancora tre partite penso, abbiamo uno sconto del tuo capitano, vediamo che succede.